La carta pescata per la settimana è la Luna, che introduce la domanda come posso fidarmi del mio intuito. La Luna, non so perché, è nella top 3 degli arcani più complessi da analizzare. Questo è quello che mi dicono i lettori di carte. Sarebbero ruota, luna e giudizio. Ad ogni modo, la Luna, abbiamo parlato dell'importanza dell'intuito, dell'importanza del mondo onirico, dell'importanza di godere di una guida extraordinaria che tutti abbiamo e alla quale possiamo collegarci al fine di guardare il processo, di capire cose sul processo e di sapere cose sul processo. Allora era necessario lasciar perdere l'ansia, la paura e abbandonarci all'intangibile. Certo, facile a dirsi, difficile a farsi. Ecco perché mi piace lavorare con questa domanda, come posso fidarmi del mio intuito, dato che non è così semplice. Ora, questo tiraggio fatto esclusivamente con gli arcani maggiori mette in luce un dato di fatto. Apparentemente mancano quelle carte che parlano dell'intuito. Ora, se avessi letto il mio libro Tarolla Grammatica, sapresti anche che il mondo intuitivo, così come il mondo dei messaggi intuitivi, nei tarocchi può essere visto da un personaggio che sta guardando un angelo. Nell'innamorato, ovvero la prima carta, nessuno dei tre personaggi riesce a cogliere la presenza angelica. Quindi è una carta dove si evince il fatto che le persone ignorano l'aspetto intuitivo della vita. Di contro, nel giudizio, ovvero la terza carta, vediamo che l'essere di destra è in grado di cogliere la presenza angelica e infatti sta guardando in alto. Quindi abbiamo un passaggio da nessuno che vede l'angelo, quindi nessuno che si interessa del proprio intuito o della comunicazione verticale, che dir si voglia, all'interessarsi alla comunicazione verticale e al proprio intuito. Per arrivare a questa tappa abbiamo bisogno dell'imperatore, che è un uomo pragmatico. Ecco, tutto il contrario di quello che ci saremmo aspettati di fronte a una domanda del genere. Però il messaggio sottile può essere mettendo in pratica, quindi facendo arrivare giù a terra, rendendo concrete delle scelte rappresentate dall'innamorato, o magari mosse dall'intuito o che abbiano un riscontro materiale, un riscontro pratico. È interessante anche vedere la ripetizione dei gruppi, sia nell'innamorato che nel giudizio. E allora forse fidarsi del proprio intuito non deve necessariamente essere un percorso che facciamo in solitaria, ma potrebbe accadere frequentando delle persone che vibrano alle nostre stesse frequenze. Voglio dare anche un piccolo consiglio, soprattutto alle persone che non hanno mai lavorato con questo stato di cose. Se è la prima volta che ti sei lanciato nel mondo dell'intuito, o comunque vuoi prendere delle decisioni mosso esclusivamente dal tuo intuito, rendere pratica questa vocina interiore o straordinaria che dir si voglia, parti con cose semplici, perché l'intuito è un muscolo e va allenato. Qualora tu non avessi allenato il tuo intuito, non ce la farai mai a raggiungere dei grandi traguardi nel giro di poco tempo. È solo per mezzo della coerenza, dell'allenamento sistematico che potrai godere di questi benefici. Quindi se stai iniziando da poco, non prendere delle decisioni troppo importanti mosso solo dal tuo intuito. Inizia a giocare con questo stato di cose, inizia a giocare con questa guida straordinaria e abbandonati al processo. Questo è quello che ti viene richiesto di fare.